uno che bisogna è su di lui bravo la palla sta lì lui occhio ok ma lui è marcato lui è marcato e ostacolato mi ricordi di passare la palla sotto quando ho fatto il primo esercizio si o no? perfetto a questa mia azione occhio io ho creato a cambiare l'angolo di blocco e tu difensore tu vedete quante lezioni si possono fare passo sopra mi vieni a riprendermi da quest'altra parte bravo ah ora tu sei il cercherone delle seconde amiche vedete che cosa sei creato lezione sui blocchi ce ne sono 12 lui mi cambia l'angolo di blocco e siccome la mia azione tu si è bello spingo con l'opera io che cosa faccio insegniamo da piccoli a leggere questo a questa mia azione a questa sua reazione perché io devo andare l'angolo di blocco a fare la fotografia no perché lui mi ha ricreato un altro ma io dormo in piedi ma se tu non sei la pace a fare passaggio schifo bravo sono fischio quindi sono fondamentali non sono soluzioni che possiamo chiedere ai nostri giocatori se prima non ci abbiamo la guerra ok devo concludere ritornate tutti quanti indietro senza la dipresa vai due persone che vanno a fare questa persona che vanno a fare un primo caldo tu sei per l'uomo ma no 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 fai detto qui è il prossimo questo ok ma non è detto che può partire non è uno un anno non è me ok tutti gli altri fuori perché lo devo far vedere fondamentali di passaggio e di smarcamento vai e bravo otto caldo fondamentale di velocità e per la sveglia che è bravo via spazia due lati un bel troppo un fuoco stop stop ricordati che qui tu puoi creare il vantaggio cosa è successo fritta che porti qui sul blocco e tagli un luogo le tre posizioni non ti puoi dare la barba ma ti puoi dare a me che succede quando io la ripargo e mi entri nel posto prima bravissimo posso dopo di giornale al tuo asprim salda fuori ora ti stanno portando il luogo a te giocano con te bravissimo vai perfetto passaggio stop abbiamo già trovato una soluzione sì o no beh salda di pari per la pari e alessi prestato volta di una presa perché quando hai fatto un blocco e tutti la toccano su di lui devi vedere un'altra vita di passaggio una posizione sulla dita proprio di potere che ci siamo arriviamo fino qui dai che ce la faccio dai che ce la faccio andiamo fino qui vai vai stancamento via spazzatura via primo per cor in piazza vai primo per cor secondo primo di passaggio blocco tagli dentro dai altri ridotto secondo per cor e blocco per un'altra passaggio salta meno prima non è successo niente passaggio ma se tu non puoi dare quel pallone a quel giocatore perché è il principale e non puoi dare la palla dentro ci abbiamo messo delle altre cose ci abbiamo messo un end off cioè il passaggio bravo bravo bene che cosa dobbiamo fare su un end off noi dobbiamo provare a non fermare la nostra puntività e da questo pallone io cerco di andare verso il suo naso quindi un end off dal pallone prendendo questa valla e usando l'organismo ok come fai a presto il tiro se si apri tutti gli altri sempre prendendo lo spazio suo arriviamo a questa cosa qui e poi finisco vai via spazzatura fondamentale fondamentale vai che deve muovere che facevi? perdono si o no ben qui sotto per un parco rimpiazza alto bene stop va non gliela a tritare qui si è rotto non gliela a tritare vai spazzatura che facevi? che dopo? dall'altra parte dicevi soiamo da lui arrivai da lui sei e ti butti a cagliare finisco siamo arrivati a questa situazione in cui non posso rimbalcare allora dicevo dicevo non posso è proprio e ti spazio che succede? tu sei vogliamo mettere siccome siamo negli anni 17 e 19 posso andare a fare il contro rimpiazza questa situazione fa la luta cambia la situazione perfetto tu sei hai avuto il gioco si o no? quindi direi tutto mi guarda il contro mentre loro vanno nel contro soluzioniamo la situazione se no io ho 50 cinque anni devo andare a fare so tu che cosa fai? finiamo e mettiamo nel nostro gioco un picco errore ma sempre pensato come si sbaglia bene quindi tu